Quando sentiamo questo Vangelo anche di oggi, non è che è un Vangelo diverso da ieri, parliamo sempre della parola di Dio. Quando sentiamo è facilmente dire ma io questo Gesù non capisco. E allora subito andiamo proprio a quella domanda che Gesù fa ai Suoi discepoli di tutti i tempi. Non importa quello che dicono gli altri, Lui si rivolge personalmente a me, a te. Tu chi dici che io sia? E questa è una domanda, fratelli e sorelle, che teniamola presente ogni giorno. Teniamo presente questa domanda. Anzi, dovrebbe diventare un senso, direi, positivo, sì, un tormento. Perché ci deve spingere a rispondere, a non andare avanti nelle nostre attività, scappando dalla risposta. Chi sono io per te? La domanda su Gesù ci dice che Cristo non è ovvio. Non è ovvio che la fede deve essere nuova, fresca, ogni giorno. Il Vangelo di oggi, di ieri, quello che sentiremo prossima domenica, oppure domani sera alla Messa, il Vangelo ci costringe a prendere posizione nei confronti di Gesù. Cosa pensi del suo insegnamento? Cosa pensi delle sue esigenze? E pensiamo poco, credetemi. Non sono le mie parole, ma del Vicario del Santo Padre. che in uno dei suoi interventi, proprio sulla formazione dei laici, eccetera, dice, noi tante volte neanche sappiamo far per bene il segno della croce. Neanche sappiamo fare bene il segno della croce. Eppure questo segno è professione della nostra adesione a Cristo, alla famiglia cristiana. E la gente ci guarda, la gente ci guarda. Tante volte succede, spesso, lo vedo anche io, che lo facciamo in modo quasi nascosto perché ci vergogniamo quando siamo in viaggio, in aereo, non so, sulla nave. Ecco, un po' di nascosto. Allora è meglio non farlo. Se ti vergogni un po' di questo segno, allora è meglio non farlo. Dobbiamo avere questa coerenza con quello che facciamo. Non possiamo accettare Cristo come scontato e riassaputo. Cosa diciamo di Gesù? Oggi, in questo momento della mia storia, cosa dico di Lui? Il nome di Gesù sia sempre sulle nostre labbra, sempre, sempre. Gesù, deve essere la mia quotidiana esperienza. Quando tu pecchi, quando tu ormai sei caduto nel peccato, lieve o grave, e sapete, conoscete i comandamenti, lieve o grave, se tu in quei momenti non lo invochi, non chiedi aiuto a Lui, quante volte hai detto, sarai preso da Lui, da Satana, è Lui che ti allontanerà da questo nome, perché non l'hai invocato. Se non l'hai invocato, allora Lui dice, invoca me. Ma è questa la verità. Una volta Gesù, quando ha liberato una persona dal demonio, ha detto, stai attento, adesso sei guarito, ma se tu non imprendi la tua strada, dopo questa guarigione, è come una malattia fisica, no? Se tu non la curi dopo, ritornerà, Lui ritornerà, sette volte in modo peggiore. E questo vale sia per la sfera spirituale, sia quella materiale o fisica. È così. Chi è per te Gesù? E noi abbastanza, ripeto, perché non è così scontato, normalmente le basi fondamentali della fede abbastanza conosciamo, abbastanza, ripeto, ma non servono studi o formule di catechismo della Chiesa Cattolica per dare risposta a questa domanda. No. Serve l'esperienza. quando ci chiedono gli altri per te, chi è Gesù? E penso che è capitato a voi, persone che vi hanno chiesto, ma chi è per te questo tuo Signore? Non servono le formule perché non cambieranno questa persona. Serve la mia esperienza di vita, le mie scelte che faccio, lo stile della mia vita. Basta questo. Gli altri troveranno, in queste scelte, in questo mio stile di vita, la risposta. Santa Faustina Kowalska, che qui è venerata, no? Come apostola della Divina Misericordia, ha detto che Gesù è il segreto della sua vita. ha detto che prima lo ha portato personalmente, dentro, ma man mano che ha fatto anche lei una crescita in questo cammino, ha detto che non posso più mantenere questo segreto, lo devo testimoniare, lo devo dire, lo devo trasmettere. E dice si è risveriato nella mia anima un amore grandissimo verso Gesù. E questo amore, ha detto, ormai si manifesta, non solo nella mia anima, ma anche esternamente. Papa Francesco, ieri a Palermo, io lo seguo sempre per quello che posso fare, ecco, nella mia attività, perché c'è anche le messe, eccetera, cerco sempre di sentire, analizzare, o lo scrivo, quello che dice, ecco, subito da vivo. Ieri a Palermo, raramente Papa ha usato parole così forti. Non ha offeso Palermitani, perché c'è poco da offendere, bisogna dire. Io devo dire la verità, chi sei, tu non ti devi, devi ringraziarvi, se io ti dico, guardi, che tu stai rubando, che tu offendi questo, quell'altro, non devi, ecco, trovare in me un nemico, perché ho coraggio, umiltà, dire la verità, la verità, chi sei? Raramente, nei viaggi apostolici, il Papa Francesco, dopo Giovanni Paolo II, ha usato parole forti, del resto si è scusata, ha detto, scusatemi se io ho usato parole così, ma mi piace dire in questo modo, e devo dire, per capire la nostra fede, e diceva che ci sono certi ambienti, ci sono? Certi ambienti che lui diceva papà, io vorrei ribattezzarli, ribattezzarli, perché sono come pagani, si comportano davvero qualcuno da lontano, li vedete, ma questi sono pagani, non è cattolico, è pagano, bellissime sono, diceva Papa Francesco, le processioni e la devozione popolare, anzi, bisogna curarla, ma queste manifestazioni religiose devono essere curate, altrimenti, altrimenti, diventeranno veramente eventi pagani, proprio così, allora invece di inchinarsi davanti a Gesù, davanti alla Madonna, è la Madonna che si deve inchinare davanti agli altri, e questo non va bene, questo non è cattolico, dice Papa Francesco, proprio così, oppure si fanno dei balli, si bevono, ubriacano davanti al sacro, e questo non è possibile, oppure, ancora citando Papa Francesco, dice, oppure ci sono quelli che chiudono gli occhi, alzano le mani, e aspettano, chissà, quali eventi sensazionali, ha detto, lui ha detto, questo non è cattolico, alzano le mani, chiudono gli occhi, alcuni cadono, alcuni non cadono, ha detto, questo non è cattolico, chi sono io per te? Gesù? voglio dare a Gesù oggi la mia risposta e lui ci aiuterà, aiuterà a sistemare varie cose che non vanno e ci aiuterà a vivere ogni momento o del dolore o della gioia, ma in modo giusto, in modo cristiano, proprio così perché facciamo parte della famiglia di Gesù Cristo. Santa Faustina talmente era legata a Gesù come religiosa, come cristiana, diceva, o Gesù mio, preferirei non esistere piuttosto che rattristarti. Bello questo. Vorrei che il Signore possa trovare grande fervore della fede nella mia, nella vostra anima, anche in quella vita grigia, quotidiana, quando è una giornata semplice, non ha un particolare risveglio da un punto di vista celebrativo. Quando vengono soprattutto problemi, contrarietà, sofferenze, quando viene la croce, quando viene la croce, perché qui cominciano i problemi, ma come? Invece di che tutto vada bene, io incontro la croce. È capitato anche a Pietro, avete sentito, che Gesù addirittura l'ho chiamato Satana. perché è così difficile accettare la croce? Perché questa croce sul quale c'è crocifisso chiede a noi di dire sì ad avere le braccia spalancate sempre. Questa croce chiede a noi di saper perdonare sempre al fratello che ci ha fatto del male, che ci ha offeso. Questa croce ci chiede sempre ad aprire il cuore a tutti senza distinzione. Ecco perché il Papa oggi a mezzogiorno all'Angelus ha regalato proprio il crocifisso alla gente. Perché sia visibile nella nostra vita. Sia visibile. Normalmente quando io vedo la gente che viene a comunione eccetera quasi tutti portano un crocifisso d'oro. La prima regalo che facciamo ai bambini quando nascono oppure prima comunione o cresima una catena con la croce d'oro. D'oro? Eh sì perché la croce è preziosa. Lì è la nostra professione di fede. Lì è la nostra strada. Proprio dobbiamo capire che per essere discepoli di Gesù bisogna seguirlo per la strada del dono dell'amore eroico fino a dare la propria vita. E questo è avvenuto sulla croce. Sulla croce Gesù non ha perso la vita ha guadagnato ma mondo dice tutto contrario. Quando si fanno bilanci economici hanno detto che abbiamo bilancio e diventato più povero perché abbiamo dato per i poveri per i barboni i migrati per la sanità e tutto questo. Dice abbiamo perso. quanto è bello fare qualcosa di caritevole nell'umiltà nascondimento a una persona che non conosciamo e vedere come questa persona è felice o poi si è direi riscaldata accanto grazie al nostro intervento. Imitare il maestro questo è il modo per rispondere a coloro che ci chiederanno ma chi è per te Gesù? La testimonianza la vita stile di vita risponderanno a questa domanda. Carissimi fratelli invochiamo la misericordia di Dio in tutti i momenti della vita che ci aiuti ad accogliere questo nome di Gesù. Non spaventiamoci delle condizioni della nostra vita non spaventiamoci che spesso siamo molto lontani da questa domanda sincera e come Pietro vorremmo che il Signore allontani da noi il suo stile di vita ma forse non sappiamo quello che chiediamo e così entriamo nella mentalità del mondo. Ma se il Signore io dico sempre disse a Pietro vai via perché tu pensi secondo gli uomini Faustina Kowalska ha trovato un modo per fermare Signore di allontanarci dall'ira dalla rabbia ed è proprio la coroncina alla divina misericordia. Il 13 settembre scorso sono passati 83 anni da quanto Gesù ha insegnato a Sor Faustina questa preghiera che placa l'ira di Dio non solo ci permette proprio questa coroncina a ritrovare la vicinanza nostra della storia della nostra vita presso Gesù perciò invochiamo la misericordia di Dio soprattutto in questo tempo che ci precede dal 5 ottobre 80 anni dalla morte di Faustina e da 40 anni dal pontificato di Giovanni Paolo II perché anche questi eventi possano trasformare il nostro cuore che sia sempre più docile aperto al quale Dio può chiedere tutto di seguirlo sino alla croce sia rodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti